Buonasera a tutti, sono Giuseppe Ungherese e mi occupo della questione FAS in Veneto per conto di Greenpeace Italia. Greenpeace da alcuni mesi lavora attivamente su questo tema che è probabilmente uno dei disastri più gravi che sta interessando il nostro paese degli ultimi anni. Il termine disastro non sono io soltanto ad usarlo ma sono anche i vertici della regione Veneto, della sanità Veneta, lo hanno detto pubblicamente davanti a centinaia di persone. La situazione è grave e purtroppo per anni è stato tenuto tutto taciuto e tutto nascosto. E questo a nostro avviso non è un comportamento che è lodevole per istituzioni che hanno l'obbligo e il dovere di tutelare la salute e la sicurezza dei cittadini. Perché alla fine riducendola in parole povere qui ci sono aziende private che fanno business, che lo fanno sulla salute di tutti coloro che sono vittime dell'inquinamento. Però come voi siete passati in una strada e c'è un vigile o un autovelox che può farvi una multa se superate determinati limiti o fate qualcosa di scorretto, allo stesso modo anche in questo caso specifico le istituzioni sono i vigili che devono tutelare e anteporre la salute e la sicurezza dei cittadini davanti al business di pochi privati. E questo purtroppo non si è verificato e tuttora chi inquina, come è stato già detto, ha ancora mano libera e licenza di inquinare. Sono passati quattro anni da quando il CNR ha scoperto che quest'area del Veneto è interessata da questo gravissimo problema. Ma non c'è ancora oggi un provvedimento efficace che vada a fermare chi inquina. Questa è una situazione paradossale perché parliamo di un bene prezioso come l'acqua potabile. Voi avete mai immaginato come potrebbe essere la vostra situazione in casa? Se avreste dei dubbi sulla sicurezza dell'acqua potabile che esce dal rubinetto di casa vostra, immaginate cucinare un piatto di pasta, lavare della frutta, della verdura, bere un bicchier d'acqua, preparare un caffè, un tè. Io ho conosciuto persone nella zona rossa, nella zona massima contaminazione, che non comprano nemmeno il pane della zona perché il pane è fatto di acqua e farina e il fornaio sotto casa non dà alcuna garanzia sull'acqua che usa. Quindi anche comprare il pane sotto casa diventa problematico. Prendere un caffè al bar, mangiare una pizza in pizzeria, lo facciamo tutti. Capite bene che questa è una situazione che va a intaccare quelle che sono le nostre comuni abitudini della nostra vita. E siamo qui, ancora a distanza di quattro anni, dove discutiamo ancora su fermare o non fermare, non vediamo chi dovrebbe tutelare la salute, prendere provvedimenti efficaci. Perché io da un'azienda che fa business, un comportamento etico, non è lecito aspettarselo, loro fanno soldi, per loro devono incassare il più possibile. Eticamente me lo aspetto, ma non posso pretenderlo da un'azienda. Mentre invece devo pretenderlo da chi è deputato a difendere la salute. E questa è proprio la più grave mancanza in questa situazione. Perché parliamo di diritti minimi e essenziali, l'acqua potabile, la salute, cose che devono essere garantite a qualsiasi abitante su questo pianeta. Io quando, non so se a voi vi è capitato mai di vedere lo scarico del collettore Arica, che è qualcosa che io interfacciandomi con i miei colleghi che lavorano in tutto il mondo, quando glielo faccio vedere mi dicono, l'hai presa nel sud-est asiatico, da un paese dove le aziende fanno quello che vogliono con l'ambiente, perché non c'è alcuna tutela. Cercatela qualche immagine, perché è veramente spaventoso. Sono scariche che potrebbero essere calati bene in una realtà cinese, vietnamita, dove per attirare investimenti esteri si dà mano libera all'industria di fare quello che vogliono. Però qui siamo in Veneto, siamo in Italia, in un paese sviluppato e teoricamente emancipato. Siamo in un paese dove le regole dovrebbero esserci e le istituzioni dovrebbero fare in modo che queste vengano rispettate. Tutto ciò non avviene. Tutto ciò non avviene e è un grosso paradosso che siamo a distanza di quattro anni e ancora parliamo delle stesse cose. La gente si scopre avere nel sangue livelli estremamente elevati di sostanze potenzialmente cancerogene e la risposta delle istituzioni, Alberto potrà confermarla, è nulla. Persone che si trovano centinaia di nanogrammi nel sangue di sostanze che l'OIARC, che è l'Agenzia delle Nazioni Unite, classifica come potenzialmente cancerogene per l'uomo, vanno a interfacciarsi con le istituzioni e le istituzioni dicono non sappiamo cosa fare. Voi capite bene che siamo allo sbando più totale e è questa la più grave mancanza e ad oggi non c'è nessun provvedimento che vada a fermare chi ha originato questo inquinamento. Noi come Greenpeace, vista la gravità della situazione, riteniamo che ogni singolo nanogrammo sversato in qualsiasi area vada a fermato, perché di sostanze così pericolose bisogna farne a meno. Non parliamo di centinaia, la situazione è già compromessa, è inutile girarci intorno, è compromessa per una vasta area del Veneto. Bisogna intervenire e intervenire subito, perché poi parliamo di sostanze che in tante applicazioni possono essere sostituite, non parliamo di sostanze che sono necessarie e permettono una qualità della vita differente, sono sostanze di cui si può fare a meno. Quindi noi esortiamo le istituzioni a sbrigarsi, a fare in fretta e a velocizzare il tutto il più possibile. Abbiamo lanciato nei mesi scorsi una petizione che ha raccolto diverse migliaia di firme che chiede proprio di fermare tutti gli scarichi, perché ogni singolo nanogrammo sversato va a gravare una situazione già gravissima. In più l'unica soluzione è quella di avere degli allacciamenti nuovi di acqua, delle fonti alternative. Però nel frattempo noi chiediamo che almeno i livelli consentiti di queste sostanze nel sangue siano abbassati ulteriormente, perché in questa zona, in Veneto, i livelli consentiti di PFAS nell'acqua potabile sono tra i più alti al mondo. Cioè qui in Veneto viene ritenuta sicura acqua che negli Stati Uniti o in altre nazioni europee, come la Germania e Svezia, non è sicura per la salute. È una situazione paradossale perché riteniamo che il corpo umano sia uno, a seconda che io viva in Svezia, negli Stati Uniti, in Germania e in Danimarca. E abbiamo chiesto alla Regione Veneto di tirare fuori le prove che dimostrino come i cittadini veneti siano in grado di tollerare livelli più alti di inquinamento. Non c'è stata data risposta. Quindi l'invito che faccio io è unire tutte le forze, tutti insieme le forze, perché siamo tutti dalla stessa parte. Questa è una battaglia che si vince tutti insieme, si vince tutti insieme perché ci sono in gioco diritti minimi essenziali che devono essere garantiti ad ogni cittadino sulla Terra. Questo è il nostro punto di vista. Uniamoci e siamo tutti insieme per chiedere lo stop agli FAS. Grazie.